eccole le ragazze ciao come statevi adorata mia che piacere vederci avete già ordinato da bere sì sì anche per me allora pronte a partire prontissime siamo nate pronte ma sapete dove andate o no qualcosa ci hanno detto in sud america tipo columbia columbia tu cosa sai a me non mi hanno detto niente sono cattivissimi con me niente mi hanno detto hanno detto mi hanno detto una persona molto attendibile che quando tu cammini in colombia non solo ti corrono appresso gli uomini come sempre a me capita no e mi corrono dietro anche i soldi stavolta mi correranno dietro uomini soldi e sineraldi perché pare che per strada ti corrono dietro ma anche te adorata ti correranno dietro ma non ne hai già abbastanza direi no ma io voglio fare un regalo alle mie amiche che tipo di passeggeri misteriosi sarete io personalmente sarò quella buona penso di aiutare anziché essere un penale credo a meno che trovo due stronzi se trovo due stronzi allora attenzione alla collana si sente secondo me va un po contro il microfono noi diciamo iniziamo insieme noi tre e poi andiamo ognuno per gli affari nostri allora sul meccanismo non posso usare voi sapete che però state giù solo una puntata no noi sì però io già ho parlato con i miei valletti per dire loro di porti portare almeno altri 15 16 bauli perché non penso che ci lasciano andare ci tenete una puntata sola perché altrimenti gli altri scomparirebbero sarebbero completamente messi in ombra scusami che c'è un problema credo con il microfono scusami sono ecco le tette eh saranno le tette allora fatemi le ultime raccomandazioni prima di partire ah ok adorate mi raccomando rivolgete i vostri anatemi solo a l'esterno del triplete mai verso di noi noi siamo siamo un gruppo ma stiamo scherzando dobbiamo avere solo una cosa in mente dobbiamo rallegrare il mondo ragazze bocca al lupo alla Sant'E